Appena sarà ufficiale, salvo che non sia stato diramato ieri un comunicato che ci sono organi di stampa che sono organi ufficiali del governo, ma credo che non sia così, questa è una mera battuta, appena qualcuno mi notificherà ufficialmente la nomina del commissario io commenterò la nomina del commissario, perché siccome sono 13 mesi che ogni giorno leggiamo una notizia, prima era Cantone, poi è Nastase, poi è Calenda, poi ieri è stato nominato, domani lo nominiamo, dopo domani lo vediamo, domani lo tiriamo dal cassetto, non metto in dubbio che l'articolo di oggi sia veritiero, ma io sono abituato a ragionare con atti ufficiali e credo che tra istituzioni si debba comunicare in modo ufficiale e istituzionale, salvo che il Presidente del Consiglio non ritenga che la città di Napoli è stata completamente espropriata e ovviamente qualora ci sarà la nomina del commissario di fronte a una condotta di violenza istituzionale di questa portata, la risposta politica e istituzionale sarà adeguata e proporzionale.